Buongiorno a tutti e ben ritrovati all'appuntamento settimanale con TRG Notizie. Aprirà il notiziario Deglia con l'editoriale. Faranno seguito la lettura del calendario liturgico, gli avvisi della parrocchia, dell'oratorio e quelli di pubblica utilità. Per la rubrica Un Santo al Giorno, oggi conosceremo Santa Maria Maddalena dei Pazzi. Per Giardino e Orto Sempreverde, questa settimana si propone la menta, pianticella dall'inconfondibile sapore fresco e profumato. E al termine del notiziario potrete seguire un documentario dal titolo Il pastore e la montagna. Buongiorno e buona domenica a tutti. Vieni e vedi comunicare incontrando le persone dove e come sono. È il tema scelto dal Papa per la 55esima giornata mondiale delle comunicazioni sociali, che la Chiesa celebra oggi come tradizione nella solennità dell'ascensione. Il messaggio di Papa Francesco insiste sulla necessità di uscire dalla comoda presunzione del già saputo e mettersi in movimento, andare a vedere, stare con le persone, ascoltarle, raccogliere le suggestioni della realtà e soprattutto ad andare laddove nessuno va. Sono parole che non ammettono appello quelle di Papa Francesco. Un invito esortazione a giornalisti e comunicatori e, in generale, alla comunità tutta, a rinnovare la propria prospettiva di sguardo e racconto, a ricalibrare la bussola. Un invito su due livelli, rivolto a due diversi destinatari. Il primo livello è quello professionale. Qui il messaggio parla direttamente ai giornalisti e ai comunicatori. La questione, evidentemente, è quella di una trasformazione del lavoro e dell'informazione che porta progressivamente il giornalista sempre più lontano dai fatti e dalla possibilità di verificarli in prima persona. La riduzione costante, poi, del numero dei lettori limita gli investimenti degli editori e così la cucina delle notizie è sempre più redazionale, a video e sempre meno fatta di indagine sul campo. Le conseguenze di questo processo sono l'appiattimento delle notizie, l'uniformità dell'informazione, la perdita del referente, ovvero la distanza sempre più chiara della notizia dei fatti con il risultato che la falsa informazione diviene sempre meno riconoscibile e affidarsi alle fake news diventa sempre più facile. Come si capisce, è la qualità complessiva dell'informazione a essere minacciata e con essa la vita democratica. Dato che è un'informazione libera, seria, impegnata a vagliare la verità, da sempre è una delle condizioni perché il pluralismo e la libertà di pensiero e opinione siano garantite all'interno di un sistema sociale. Così il richiamo di Papa Francesco a consumare le suole delle scarpe risuona come un appello etico ai professionisti della comunicazione. Si tratta di una richiesta concreta e di una metafora efficace. Si possono consumare le suole delle scarpe anche seduti davanti allo schermo di un computer, se si è rigorosi nella certificazione delle proprie fonti, se non ci si accontenta di quel che sembra, se si procede a verifica incrociata di più punti di vista. Quello a cui il Papa invita è un nuovo modo di pensare la professione, una rinnovata consapevolezza delle proprie responsabilità e del proprio compito. Il secondo livello è quello esistenziale. Non sono i giornalisti destinatari in questo caso, ma ogni uomo e donna credente. Il richiamo a venire a vedere, qui serve a distinguere la comunicazione in senso profondo dalla semplice interazione. La nostra giornata, soprattutto in questi mesi di vita sugli schermi, è fitta di interazioni mediate dalla posta elettronica, dalle piattaforme di videocomunicazione, dalla messaggistica e dalle telefonate. Sono interazioni che svolgono bene la loro funzione, ci consentono di lavorare, di trasmetterci informazioni, di rimanere in contatto e svolgere i nostri compiti. Tuttavia, la percezione è che la comunicazione abbia bisogno di altro. Essa non è scambio, ma incontro, cioè esperienza. Due gli aspetti su cui riflettere. Anzitutto occorre non confondere la logica dell'incontro con la comunicazione in presenza, identificando nella comunicazione a distanza il venire meno della possibilità dell'incontro. La possibilità che il venire e vedere sia un'esperienza dipende dall'intenzionalità e dalla disposizione del cuore. Non c'entra la mediazione tecnologica. In secondo luogo, il vivere la comunicazione come incontro e come esperienza richiama direttamente la logica della testimonianza, che può essere assunta come il punto di approdo di tutto il messaggio. Per il cristiano, comunicare significa essere testimone, ovvero essere occasione per gli altri di un incontro e di un'esperienza. Nel messaggio, ritorna il riferimento della buona novella del Vangelo che ricade oggi, ogni qualvolta, dice Papa Francesco, riceviamo la testimonianza limpida di persone la cui vita è stata cambiata dall'incontro con Gesù. Si tratta di persone che hanno accettato lo stesso invito, vieni e vedi, e sono rimaste colpite da un di più di umanità che traspariva in chi testimoniava Gesù. Quel grande comunicatore, che si chiamava Paolo di Tarso, immagina il Papa, si sarebbe certamente servito dalla posta elettronica e dei messaggi social, ma furono la sua fede, la sua speranza e la sua carità impressionare i contemporanei che lo sentirono predicare, e anche quando non poteva essere incontrato di persona, il suo modo di vivere in Cristo era testimoniato dai discepoli che inviava. Da qui la sfida che ci attende, quella, osserva Francesco, di comunicare incontrando le persone dove e come sono. In modo poi inedito, rispetto ai suoi precedenti testi per questa giornata, il Papa conclude con una preghiera. Signore, insegnaci a uscire da noi stessi e a incamminarci alla ricerca della verità. Insegnaci ad andare e vedere, insegnaci ad ascoltare e non coltivare pregiudizi, a non trarre conclusioni affrettate. Insegnaci ad andare là dove nessuno non vuole andare, a prenderci il tempo per capire, a porre attenzione all'essenziale, a non farci distrarre dal superfluo, a distinguere l'apparenza ingannevole dalla verità. Donaci la grazia di riconoscere le tue dimore nel mondo e l'onestà di raccontare ciò che abbiamo visto. Oggi, domenica 16 maggio, Ascensione del Signore, alle ore 18.30 in parrocchiale, Santa Messa per i defunti, Fezzardi Aristide ed Esterina, Gianardelli Emilia e Trappa Carlo. Lunedì 17 maggio, in oratorio, alle ore 8, Santa Messa pro popolo. Alle ore 18.30, Santa Messa per la defunta Beatrice. Martedì 18 maggio, in oratorio, alle ore 8, Santa Messa per il defunto Olini Francesco. Alle ore 18.30, Santa Messa per il defunto Migliorati Paolo. Alle ore 20, preghiera di lode e insegnamento. Mercoledì 19 maggio, in oratorio, alle ore 8, Santa Messa per il defunto Rambaldini Luigi. Alle ore 18.30, Santa Messa per i defunti, Morbini Annunciata, Famiglia Morbini e Migliorati. Giovedì 20 maggio, in oratorio, alle ore 18.30, Santa Messa per la defunta Alfano Antonia. Venerdì 21 maggio, Santa Arcangelo Tadini, in oratorio, alle ore 8, Santa Messa pro popolo. Alle ore 15, Coroncina della Divina Misericordia. In cimitero, alle ore 18.30, Santa Messa per i defunti, Rolfi Angelo e Pezzi Manuela, Beatriz Gometaipe, Orlando della Cruz Palacios, Ober della Cruz Gomez. Sabato 22 maggio, Santa Giulia, in parrocchiale, alle ore 18.30, Santa Messa per i defunti, Nadia Manfredi e Paolo Migliorati. Domenica 23 maggio, Pentecosse, in parrocchiale, alle ore 8, Santa Messa per i defunti, Pedroni Mario ed Elisa, Lorenzi Renzo e Andrea. In parrocchiale, alle ore 10, Santa Messa per i defunti, Bianchi Giuseppe, Piera, Mino e Silvia. Alle ore 18.30, Santa Messa per i defunti, Doninelli Alberto, Priante Sergio, Rizzotto Caterina e Francesco, Faglia Guglielmo, Paola Guarneri. Il bar apre venerdì dalle ore 20 alle ore 22, il sabato dalle ore 14 alle ore 18 e dalle 20 alle 22, la domenica invece dalle ore 11 alle ore 12 e dalle ore 14 alle ore 22. La distribuzione è ai tavoli sotto il portico come da normativa. Per il cortile dell'oratorio invece dal martedì al venerdì alle ore 15 alle ore 18, il venerdì dalle ore 20 alle ore 22, il sabato dalle ore 14 alle ore 18 e dalle ore 20 alle ore 22, la domenica invece dalle ore 11 alle ore 12 e dalle ore 14 alle ore 22, il lunedì è chiuso. Per il campo sintetico le prenotazioni al numero e i minori che vogliono giocare nel campo sintetico e nell'oratorio è consentito, però devono prestare l'autorizzazione firmata dai genitori, per un minimo di 6 persone. Per le proposte estive il gressa avverrà dal 28 giugno al 23 di luglio, mentre dal 1 all'8 di agosto ci sarà un campo giovane in montagna, dal 9 al 15 di agosto giovani in cammino già in onspalla, la riunione sarà il 20 maggio alle ore 20 e 15. Per il mese di maggio i giorni feriali di preghiera del Santo Rosario alle ore 7.30 e alle ore 18 nella chiesetta dell'oratorio. Per quanto riguarda la campagna vaccinazione anti-Covid-19, dai 40 ai 49 anni la prenotazione può avvenire dal 20 di maggio. Per quanto riguarda la fascia di età dai 30 ai 39 anni, la prenotazione è dal 27 di maggio. Dai 20 ai 29 anni la prenotazione è dal 2 di giugno, mentre dai 16 ai 19 anni la prenotazione è dal 2 di giugno. Caterina De Pazzi nacque a Firenze nel 1566. A 10 anni ricevette la prima comunione e fece voto di verginità perpetua. Nel 1582 entrò nel monastero carmeritano di Santa Maria degli Angeli e il 3 gennaio 1583 vestì l'abito religioso assumendo il nome di Maria Maddalena. Ad un certo punto si ammalò gravemente, tanto che i medici la diedero per spacciata e le fu consentito di fare la professione stando su un letto accomodato davanti all'altare della Vergine. Da quel momento ebbe inizio un periodo sorprendente di estasi, soprattutto dopo la comunione, e per 40 giorni ebbe la visione del dramma della passione, lo scambio del suo cuore con quello di Gesù, e ricevette le stigmate e la corona di spine, invisibili ma dolorosissime. Durante un secondo ciclo di esperienze mistiche straordinarie, il Signore le disse che la Chiesa aveva bisogno di riforma e che a lei affidava la missione di richiamare all'urgenza del loro compito i religiosi e i dignitari della Chiesa. Temendo di essere vittima di un inganno, la Santa ne parlò ai superiori e si consigliò con diversi religiosi che la incoraggiarono a seguire, senza esitare, gli ordini di Dio. Nominata da prima sotto maestra delle novizie, ne divenne poi la maestra. Le estasi terminarono il 24 giugno 1604, quando rimase rapita tutto il giorno e cominciò per lei il periodo del nudo patire, che aveva chiesto al Signore. In quello stesso anno fu eletta superiore contro il suo desiderio, ma poco dopo si ammalò e cominciarono tre anni di grandi sofferenze fisiche e morali. Si spense il 25 maggio 1607. Un anno dopo il suo confessore esegui la ricognizione del corpo, che fu trovato fresco, integro e flessibile. Maria Maddalena fu beatificata nel 1626 e canonizzata nel 1669 da Clemente IX. Le relazioni delle sue estasi, che riempiono cinque libri, confermano il grande influsso dottrinale che la Santa esercitò nella spiritualità e nella pietà, specialmente in Italia, da dove il suo culto si è stese in tutta Europa. La menta è un genere che comprende circa 25-36 anni. specie perenni, da rustiche a semirustiche, diffuse in tutta Europa, in Asia e in Africa. La si trova facilmente tra gli incolti, lungo i sentieri, in terreni freschi e umidi, ed è una pianta perenne. Il nome menta, secondo la mitologia greca, deriva da quello di una linfa, minte, che proserpina, per gelosia, tramutò in pianta. La menta, a seconda della specie, è alta da qualche centimetro a poco più di un metro, con steli eretti e radici rimazzose, che si espandono notevolmente nel suolo. La foglie della menta sono ovali, più raramente rotonde, color verde brillante, ma alcune varietà sono con bordi color crema o viola. La fioritura avviene in piena estate e prosegue fino all'autunno. Tra le tante specie di menta, la menta piperita è la più diffusa, per quanto riguarda la coltivazione. La piperita è anche la più usata per la preparazione di liquori, birre, bevande e prodotti dolciari. Viene anche utilizzata per aromatizzare preparati farmaceutici per dentifrici, ecewingum e anche caramelle. E con questo è tutto. Vi lascio alla visione del documentario dal titolo Il pastore e la montagna. Vi auguro una buona domenica e una buona settimana. Il pastore e il pastore e il pastore. Il pastore e il pastore e il pastore. Grazie a tutti